L'ultima volta a Roma siamo stati nel 2020, l'appuntamento del 2021 a Roma in presenza è saltato, siamo riusciti a superire anche grazie all'aiuto di CLAS facendo delle edizioni digitali, però oramai ce la possiamo fare, quindi saremo il 6, il 7 e l'8 di aprile a Roma in presenza per tre giorni che saranno in linea una parte sui contenuti come negli anni passati e poi ci saranno un po' di varie novità.